Non c'è pace per le tasche delle famiglie italiane. I genitori sono costretti ora a fare i conti con l'acquisto necessario dei libri per la scuola. E per chi ha anche più di un figlio la spesa diventa insostenibile. L'ADOC Puglia ha realizzato un'indagine per verificare il costo complessivo dei libri di testo consigliati e se gli stessi rientrano o meno nel tetto massimo di spesa fissato dal Ministero dell'Istruzione. La maggior parte degli istituti monitorati ha sforato il budget in media del 5% ma comunque rientrando nel tetto massimo del 10% previsto dal decreto ministeriale. Quindi in realtà l'aumento c'è stato ma è velato da questa possibilità di aumentare il tetto massimo fissato dal Ministero entro il 10%. A Bari da 7 anni è operativo il mercatino dei libri usati che li rivende al 50%. Uno spiraglio è per le famiglie che non riescono a far fronte alle spese. L'affluenza rispetto all'anno scorso è in aumento nel senso che comunque una famiglia media spende ogni anno ad inizio anno scolastico 600 euro soltanto per i libri di testo e questo evidentemente è un salasso ad inizio anno per questo le persone ricorrono sempre più a comprare i libri usati. Quanto incide nella spesa della sua famiglia? Siamo in 5, un unico stipendio, fate voi i conti. Sono 600 euro di libri. Da non farcela praticamente. Da non farcela, esatto. L'Associazione Nazionale dei Genitori Italiani chiede che la spesa dei libri di testo sia deducibile. Richiesta appoggiata dall'Adoc Puglia che in alternativa chiede una riduzione dell'IVA dal 10 al 4%. Grazie. Grazie.